Vai? Eh, è buono. Gli hanno valuto il totello di sette volte, e poi che crescano. L'abbiamo fatto in doppio, Rossi. Provia. Senti, sono più... 161. Fuori. Allora, appena finito di fare i tortelli. Sono un po' forti. No, sono forti, sono... E che è la distesa di tortelli? Sembra un campo. Quelli di quando sono cotti, raggiocchiano. Adesso, praticamente, è il contratto che mi piace. Ora, non è il mio caso, vero? Perché io, chiaramente... Invece che 100, ne mangio 50. Che è tanta, va. Tu mi mangerai 30. Sì. Non tocca, non c'è. E' dura. Una bella fatigata, vai a sciarare. Questa è risolta, va. E' bene. Ti ha una lavata. E ti coprano un po'? Sì, un po' però non vuoi prendere di presto. Ma andate troppo sverte oggi, ragazzi. Non so. E' ripena la povera, sai. Sì. Fa' 150 tortelli. 160, ma sono il doppio dei piedi di nonno. Io non capivo perché stamattina Susanna aveva una bella voglia di fare, la regola. Ma ovviamente. E' buono. Tanto che ho fatto il doppio dell'altra volta, eh. Mettevi la farina, la patata. Il doppio in quantità dell'altra volta. Poi tra questo ci mangia la pasta, ci assaggia le patate, la ronizzo. Guarda di avere il figliolo. Ma era buona la pasta? Buona? No, era tutto a posto. Con questa assolta andava tutto veramente... Le patate le so' buone? No, le patate le so' buone per le asciutte senza fare noce. E' in pratica una volta a depigliarle e mangiarle. Sì, ti viene anche a dire. Così domani si fanno anche i polpiti. Ma ti parlo domani, c'è anche lui. Il problema non si può. Lì c'è l'acqua. Lì c'è il sugo. Aspetta, bisogna accendere il fuoco. L'acqua con un po', un cucchiaino d'olio. Un po' di attaccare. Ancora un po' di sugo di gallina. Sugo di gallina. Aspetta, chi si vede c'è la luce. Eh, la bisogna ora non messo l'ora a scaldare. Fatto dalla Susanna. E la questa bella Susanna, eh. C'è soccana, ha una scombia, perché se no manca la pellucca e il taglio. C'è ora, ho cane così, o che è normale. Palla, c'è anche. Palla, c'è la palla. E questa è la crostata. Siamo riusciti a salvare dalle grince della Fernanda D'Ascottini e la crostata da me. Ma la mamma me ne si aspettava. Eh, lo so. Io so già, si è mangiata. Sì, è vero. Dai, ci diamo. Così. Mia, basta da mostrare le palle. Da dire, io ho un tanto bovino. No, io ho un piano scemo. Un tanto bovino e un tanto bovino. Mmmmmmmmmmm. Vieni la mamma. Ma poi sceleggiati. Ma un sacco. Facci me il segno. Ora, sa parecchia. Quante siamo? Come la tua morte. Allora, voglio dire qualcosa per concludere? No, per crostute no. Per crostute no. Ah, sì, sì. Eh, vanno fatti. Siamo 4 e 3 e 7. Questo riscacchia la terra. No, no, no. Siamo 7. Quando si comincia a fare accogliti, e si mettono. Aspetta, c'è già la... Siamo 7. Siamo 7. E poi il bambino, eh? Sì, c'è il bambino. Va bene, le segge ci sono. Perché tanto i nonni li ha auto munito. Le segge ero munito. L'acqua che è consiglio degli acquisti? No, 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 no. Aspetta, fammi se neanche una mattinina. O, a questo punto, c'è da dire una cosa. Questo bisogna dirlo. Che, il numero di tortelli non vuol dire niente. Nel senso che, a seconda di quanto si fa grossi, con la stessa quantità di pasta, ne può fare 300 o 200. Cioè, però, la quantità di farina, d'ovba, di pasta, di patate, e di cosa, non è la stessa. Per cui, quando uno dice, io mangio 100 tortelli e mangio 50, può anche non voler dire nulla, di fatto. Perché, se uno mangia 50 tortelli, per i vicini, se uno mangia 50 tortelli, la cucina bella, cioè, voglio dire, comunque, ora, se si guarda sugli acquisti, le carità. Vabbè. Sugli acquisti, consigli per gli acquisti. Grazie. 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 Grazie.